Musica Allora, visto che è stato stranominato, è stato più volte chiamato in causa, abbiamo qui il presidente Lava Marlazio che tra l'altro è anche il presidente di Assolutela, consumatori, quindi una figura molto importante per Roma che ha deciso poi di investire il suo tempo anche in questa nuova avventura, di nuovo la Marlazio Presidente, ci dica qualcosa Beh, intanto sono soddisfatto, stasera festeggiamo il primo posto in classifica con il pari merito un'altra squadra che è il Darma, una squadra molto buon competitor che affronteremo poi nelle prossime giornate come sconto diretto Siamo molto soddisfatti, ringrazio veramente di cuore il direttore sportivo Massimo Santuario Luca De Bonis, che è il mister, per il grande lavoro che stanno facendo la grande campagna acquisti che stiamo facendo nella quale poi si vedono i risultati Insomma, siamo veramente pienamente soddisfatti e siamo soddisfatti anche perché questo progetto della Marlazio, che è un progetto sociale ci sta portando veramente dove volevamo e quindi non possiamo che gioirne tutti insieme Perfetto, Presidente, il suo obiettivo per l'anno prossimo? Ce lo dica e ce lo dichiari come l'è sempre diretto? Sicuramente la Serie C, arrivare a vincere il titolo per arrivare in Serie C La ringrazio Presidente, è un onore conoscerla La ringrazio Presidente, è un onore conoscerlo La ringrazio Presidente, è un onore conoscerlo